La partita è importante che ci meritiamo tutti e deve essere un punto di partenza perché già da mercoledì affronteremo una partita importantissima, tosta, quindi è importante adesso goderci questa vittoria e da domani pensare già alla partita di mercoledì. È importante per la squadra e per tutti perché abbiamo lavorato bene dopo la sconfitta di Cagliari e ci meritavamo questo risultato quindi deve essere un punto di partenza per poi dare continuità a questa vittoria. Noi dobbiamo essere l'esempio per tutti, dobbiamo trascinare la squadra perché è giusto che sia così, abbiamo sofferto ma in Serie A si soffre perché tutte le squadre hanno qualità, ormai è un campionato molto equilibrato quindi è giusto soffrire e è giusto anche poi saper portare a casa il punteggio pieno. Conta sempre la squadra perché è importante il gruppo, è importante la squadra per andare avanti con entusiasmo e umiltà per il proseguo del campionato.